Easy, centro lavoro Galdus Milano. Ricerca 100 nuove figure da assumere per conto di Domino's Pizza. La pizza a domicilio numero uno al mondo. Cuore italiano, American Way. Partecipa anche tu alle selezioni del 30 gennaio. Cerchiamo personale per i punti vendita di Milano. Contattaci allo 02 49 51 62 04 per fissare subito un appuntamento. Oppure scrivi a info.easy.galdus.it Siamo in Viale Toscana 21, a Milano.